Fa tutto parte del piano, giusto ragazzi? Serena, rapporto. Cosa sta succedendoli? Migliore ipotesi? Stiamo attraversando una specie di sistema di ormeggio. La forma di vita aliena ci ha seguiti. C'è un'infestazione di rilievo sulla zona di poppa. Unità. Forge, valla fuori e leva quelle cose dalla mia nave. Puoi richiedere truppe nelle chiuse d'aria sul ponte. Se perdiamo quelle chiuse d'aria, siamo senza difese. Tutte le unità. Unità locale. Orlet, pronto per partire. Tutte le unità. Quegli alieni stanno lanciando navicelle sullo scapo ad ogni direzione. Continuate a tenerli d'occhio. Pronti a sparciare un po' di colore? Eccone un altro alla griglia. Subito. Nuovo sangue sviluppato. Una ola per i vincitori. Tutte le unità. Aspetta l'obiettivo. Non siamo un po' di colore. Vado. Torretta completata. Subito. Torretta completata. Obiettivo eliminato. Torretta completata. No, no. Torretta completata. Che ci sono? Torretta completata. La popolazione aliena sullo scapo sta aumentando e la struttura sta reagendo. E abbiamo altri droni. Mi muovo. Torretta completata. Maggiore risorse richieste. Tutte le unità. Lo prenderò. Non siamo un po' di colore. In arrivo. Ricevuto. Certo. Torretta completata. Tutte le unità. In movimento. Facciamolo. Tutte le unità. Nessun problema. Loretta completata. Sì, è morto. La ora per il vincitore. Non seguite l'altro biglietto di i turni. Pronti a smacere un po' di colore. Vedo l'obiettivo. Torretta completata. Lo prenderò. Ricevuto. Nessun problema. Vedo l'obiettivo. Tutte le unità. In movimento. Corretta potenziata. Schermi infranti. Rilevata infezione di alto livello. Rilevata intrusione di alieno non identificato. Protocolli di difesa livello 3 avviati. Cattive notizie. Ho intercettato il segnale dal IA aliena. Quei droni ci reputano una minaccia e si stanno ammassando dietro di noi. Tutte le unità. Tutte le unità. Ci sono. Traccia razzi sviluppato. Il campo energetico sta reagendo agli alieni. Sta cercando di liberare il nostro scappo. Riparatevi da fuori. Tutte le unità. Capitano, se le nostre unità aeree volano attraverso l'anello in direzione opposta, il danno sarà minimizzato. Tutte le unità. Org di posizione. Rimuovo. In arrivo. Org pronto e in volo. Org di posizione. Org di risorse richieste. Org di movimento. Org di viaggio. Torretta completata. Orn è pronto per partire. Torretta potenziata. Torretta completata. Maggiori risorse richieste Hornet pronto e in volo Tutte le unità Subito Vito l'involo In attesa In viaggio Tutte le unità Vedo l'obiettivo Forma di vita aliena neutralizza Maggiore risorse richieste Tutte le unità Psycho pronto per partire Sì, è morto Hornet decollato Subito Di nuovo Torretta completata Lascia fare a me Rigenerazione pronta Rigenerazione annullata Tutte le unità Sì, è morto Vedo l'obiettivo Vedo l'obiettivo Mi muovo Maggiori risorse richieste Marino lanciarazzi sviluppati Torretta completata Torretta potenziata Torretta potenziata Torretta potenziata Sto andando Facciamolo Tutte le unità Subito Tutto Attendo ordine Hornet decollato Giairo ruotati Hornet in movimento Tutte le unità Fondazione annullata Per scuola Rigenerazione annullata Sì, è morto Fondazione annullata Fondazione annullata Fondazione annullata Fondazione annullata Armi cariche In volo Hornet in movimento Va bene Armi calde Hornet all'attacco Torretta completata Hornet all'attacco All'attacco Torretta completata In volo Attacco in nemico! Navigazione! Orneth in arrivo! Bersaglio admitito! Orneth all'attacco! Bersaglio agganciato! Unità locale! AB14 in movimento! In volo! Attacco in nemico! Tutte le unità! Unità locale! Siamo in volo! Bersaglio agganciato! Cairo attivati! Attacco in nemico! Orneth all'attacco! Torretta completata! Va bene! Torretta completata! Unità locale! Bersaglio acquisito! Unità locale! Unità locale! Navigazione! Tiramo in volo! Torretta completata! In volo! Atacco! Torretta completata! Torretta completata! Temici attaccati! Torretta completata! Torretta completata! Orne di posizione Corretta completata Unità locale Seguenza di decontaminazione cominciata L'anello è tornato AB14 in movimento Unità locale Chairo ruotati Orne di movimento E in volo Pronto per colpire L'anello è tornato Ordini Vito in volo Campo a scompro Lo scappo è libero Serena Motori al massimo Portaci fuori di qui Rigenera scuro gli obiettivi Unità locale Unità lucope L'anello è libero È benissimo L'anello è liberata Giare Tutta a Tribordo. Tribordo, sì signore. Capitano, stanno caricando le armi. Azioni di battaglia, armi in linea. Dì a Forge che non ha finito là fuori. Avvisare il sergente, sì signore. Ehm, l'idea di essere dentro il pianeta spaventa solo me. Capitano, dobbiamo controllare il danno o la Spirit of Fire sarà abbattuta. Forge usa i Cyclops per ripristinare il nucleo energetico mentre ti difendi dagli attacchi dei Covenant. In attesa. Segno sì. Sì. Attaccano il nucleo energetico. Dubito. 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 Tutte le unità. Capitano, stanno trasportando forze d'invasione nello scafo. Capitano, stanno trasportando forze d'invasione nello scafo. Dubito. Concentrati sull'obiettivo. Dubito. Dubito. completata, corretta completata, tutte le unità, ricevuto, lo prenderò, corretta potenziata, lo prenderò, corretta potenziata, in attesa, corretta completata, 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 Torretta potenziata. Torretta potenziata. In attesa. Signor C. Attaccano sia con forze aerei che con truppe di terra. Dovremo equipaggiarci di torrette per contrastarli adeguatamente. Pronto. Mi muovo. Mi muovo. Pronto. Signor C. Andiamo. Ordini. Ci muoviamo. In attesa. Maggiori risorse richieste. Sono pronto. Ricevuto. Lo prenderò. Lycop è pronto. Prontissimo. Lo prenderò. Lo prenderò. Corretta completata. Lycop, paraforte. Tutte le unità. Corretta completata. Tutte le unità. Corretta potenziata. Unità locale. Corretta potenziata. Signor C. Signor C. In attesa. Signor C. Signor C. Tutte le unità. Ricevuto. Ricevuto. Maggiori risorse richieste. Tutte le unità. Unità locale. Riccato. Unità locale. Maggiori risorse richieste. Riccate. Corro gli obiettivi. Torretta completata. Torretta completata. Torretta completata. Marina Rapporto. Ci muoviamo. Ci muoviamo. Ci muoviamo. Ci muoviamo. Andiamo. Lo prenderò. Lo prenderò. Lo prenderò. Unità locale. Ricevuto. Spartan è a terra. Dove si va? Torretta completata. In attesa. Corro gli obiettivi. Lo spartan torna in azione. Lo spartan torna in azione. Corretta potenziata. Unità locale. Lo prenderò. In attesa. Signor Sì. In attesa. Ne approfittano durante la riparazione. Respingete. Tutte le unità. Unità locale. Ricevuto. Ricevuto. Tutte le unità. Nemico in pista. Unità locale. Ricevuto. Ricevuto. Marine. Lo prenderò. Il nostro nucleo energetico è stato riparato circa a metà. Marine. Pronti, signore. In attesa. Ci muoviamo. All'attacco. Marine a terra, signore. Però, ci muoviamo per eliminare l'obiettivo. In attesa. Signor Sì. Signor Sì. Ricordate il vostro addestramento. Marine pronti a partire. Sì? Marine. Fuà! In attesa. Ci muoviamo. Ricordate il vostro addestramento. Pronto per partire. In attesa. Signor Sì. Con vita a locale. Ricevuto. Lo prenderò. Ricevuto. Buro gli obiettivi. In attesa. Cyclops preparato. Marine pronti, signore. Signor Sì. Marina a terra, signore. In attesa. Ci muoviamo. Ci muoviamo. Marina a rapporto. Mi posizione. Pronto per volare. In attesa. Marine. Sicure donno. In attesa. Ci muoviamo. In attesa. si muoviamo marino pronti signore ci muoviamo marina terra signore dove si va? ricevuto marina rapporto marina pronti a partire marina ricollato ordini rotta stabilita in attesa ci muoviamo ci muoviamo attività locale segno che in attesa palco pronto per partire in attesa in attesa in attesa in attesa ci muoviamo ci muoviamo ci muoviamo ci muoviamo in attesa in attesa Nucleo energetico ripristinato circa il 75%. Nucleo energetico ripristino. Nucleo energetico ripristino. Nucleo energetico ripristino. fuoco lanciarati attivo continuatevi sull'obiettivo corri adesso mentre io guardo dall'altra ci muoviamo ci muoviamo all'attacco fermi il nemico è laggiù preparatevi ad aprire le danze all'attacco sono pronto di nuovo rimuoviamo mi raccomando non è niente è meglio da offrire oltre questo tampo all'attacco il nemico è laggiù preparatevi ad aprire le danze in a terra all'attacco ci muoviamo ci muoviamo si si rigenerazione prescuro gli obiettivi si in arrivo in arrivo va tutto bene in attesa cambio rossa palco in viaggio ricordate il vostro addestramento sei più brutto di quanto pensassi all'attacco obiettivo in vista non si riesce sicuro e notte l'arrivo all'obiettivo in attesa obiettivo in vista incenera sicuro gli obiettivi si fuoco il nucleo energetico della spirit è quasi riparato in attesa in attesa in attesa sicuro e notte il nucleo energetico ripristinato serena motori al massimo a a